Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Santa Marina, già provveduta ad acquistare i pezzi del proiettore che dovranno risolvere il guasto, che ha determinato a quanto pare l'improvviso stop del cinema di Policastro. C'è la determina dello scorso 3 ottobre con cui il dirigente affida alla ditta Cinesonor di Casoria la fornitura del materiale e la sostituzione dei ricambi necessari e impegna circa 5.000 euro per l'intervento previsto. Ad esprimere la propria perplessità sulla chiusura del cineteatro era stato il consigliere di minoranza Salvatore Tagliaferri, che ieri aveva presentato un'interrogazione al sindaco Giovanni Fortunato per chiedere appunto i motivi dell'inattività dell'impianto e sondare le intenzioni dell'amministrazione in merito al futuro della struttura, soprattutto dopo il cambio di gestione e l'affidamento della stessa dal 16 agosto al 15 settembre alla società che gestisce attualmente anche il cinema di Agropoli. L'amministrazione comunale di Santa Marina sta lavorando al risolvimento del problema, come si evince dalla determina che individua il guasto in alcuni pezzi del proiettore, lampade e specchi da sostituire. D'altra parte, secondo quanto riferito dalla società che si occupava della gestione dei cineteatri di Sapri e Policastro, già nel febbraio scorso era stato segnalato con una pecca al comune di Santa Marina che la lampada del proiettore era arrivata al capolinea, avendo ogni lampada una vita media dalle 800 alle 1200 ore ed essendo quella di Policastro già a 1200. Venne anche interrotta la programmazione cinematografica a marzo, onde evitare eventuali rotture che avrebbero causato danni ben più ingenti della semplice sostituzione della lampada. Ora si attendono i lavori per vedere nuovamente riaperto il cineteatro di Policastro mentre resta il nodo sul futuro della struttura e di quella identica di Sapri che sorge a pochi chilometri di distanza.